dominio controllate gli obiettivi mi hanno colpito tasturiamo bravo stiamo prendendo Charles aiutano al progresso A controlliamo bravo stiamo mettendo a fronte abbiamo il controllo a scopo al ferro di nemico container di carico tastiamo bravo prendiamo bravo 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 serve aiuto su G perdiamo alfa abbiamo perso no approfondimento alleati tua fine di coini alfa in mano nostra perdiamo bravo abbiamo perso abbiamo perso il personale prendiamo pin ci siamo salti guardamento di precisione in arrivo abbiamo perso abbiamo perso abbiamo perso abbiamo perso abbiamo perso abbiamo perso bravo abbiamo perso bravo 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 abbiamo perso bravo 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 abbiamo perso bravo abbiamo perso bravo bravo abbiamo perso 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 bravo abbiamo perso pericol pericolpito pericolpito guardiamo controlli abbiamo perso pericolpito controlli Siamo a metà strada 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 Sì Siamo a metà strada Sì